un continuo cerchio e seno attraverso nt 17 febbraio 2001 a cura di vb alexander approfitto di questa domanda per darvi alcune indicazioni se riesco ad esprimermi nel modo giusto il futuro noi lo vediamo chiaramente perché non è un futuro su un piano temporale è un continuo in cui non c'è né passato né presente né futuro quindi noi possiamo vedere tutte le situazioni anche quelle che dovrebbero essere per voi il futuro ma noi vediamo diverse possibilità questo dovrebbe essere chiaro per voi e queste possibilità si realizzano con la vostra possibilità di scelta se voi ad un certo punto della vostra esistenza decidete di agire in un certo modo anziché in un altro si concretizzerà quel futuro che è una conseguenza un effetto della causa che voi muovete quindi il futuro non è unico per voi creature incarnate e naturalmente per noi quando lo saremo ma è un futuro che può prevedere delle varianti